Valerio Avedovatti, che sapore qua a casa la posso fare? Quindi occhio a quello che dici. C'è Giody in chat, credo. Eh vabbè, cosa ne pensi? No, Valerio, non dire queste cose. Sto per mandare un link a una persona in questo momento. No. Siamo tutti a fare live. C'è un piccolo problema. Qual è il problema? Mi hanno... Scammato il link. No, mi hanno cancellato da un mio Whatsapp. Che cazzo vuol dire? Non posso più entrare sul mio... Qualcuno è entrato... Ma che cazzo dici? No, è gravissima sta cosa. Ma me stai parlando da più a più. No, 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 te lo giuro. Guarda, devo coprire il numero. No, te lo giuro. Mi hanno buttato fuori nel mio Whatsapp. Sono entrati nel mio Whatsapp. È la cosa gravissima, eh. È gravissimo. È una... È porco diaz, tutte le mie chat. Sì, sì, sì. Hai perso tutto. 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 Per sempre l'hai persi. Mi va silenzio. No, no, ragazzi. È una cosa gravissima. E adesso? No, Valerione, non prendermi per il culo, porco diaz. Come faremo? No, sto scherzando. No, Valerione, non mi prendere per il culo. Non lo accetta. Se no MMA. No, no. Oh, cosa devo fare? Non posso entrare nel Whatsapp. Non mi fai vedere lo schermo, cioè. No, oh. Che c'è scritto? C'è il numero in sovraimpressione. Non posso fartelo vedere. Rinvia il codice tra sei ore. Chiamami tra un'ora e mezza. E non ti è arrivato nessun messaggio? No. Nei messaggi normali. L'avranno bloccato apposta. Hai controllato? Controlla se ti è arrivato un messaggio nei messaggi normali? E mi è arrivato il codice di Whatsapp nei messaggi normali. Eh, mettilo là. Ma non posso metterlo! Cambia stato. Ma chi è la testa di cazzo che fa una roba del genere? Ma io voglio mettermi in faccia. Cosa? Ma... Non hai messo il tuo numero da nessuna parte? No, non sono un cretino. Non è che io... Ragazzi, chiamatemi! Woohoo! Ciao!